Si ricomincia da qui e sembra essere tutto tranne che un caso. Dal centro sportivo Luigi Berlusconi di Monza ben ritrovati. Vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione da parte di Luca Brivio. Benvenuti a Monza-Milan. Giro palla a Monza che prova a liberarsi del forcing di Cuenca e ci regala questo pallone. Proprio Ughito palla al piede. Limite dell'aria. Cuenca il pallone buono in aria per il tiro di Bonomi. E il gol del Milan che passa in vantaggio con il gol del suo numero 30. Prima partita in primavera e subito gol per Bonomi. Milan avanti al minuto 19. Dalla lunetta dell'area Ferraris parte con il destro la palla che finisce in gol. L'esecuzione perfetta di Ferraris che a prima occasione dunque porta il Monza in parità. Quarantunesimo che va in archivio ora. Va Victor con il mancino di testa al Milan che la mette in gol! La mette in gol e però è fuori gioco. Però è fuori gioco o fallo? L'arbitro ha anche aspettato molto a fischiare. Rivediamo il cross in mezzo di Victor. Otto che non sia questo. Anzi era autogol. Era autogol e nessuno l'ha toccata. Quindi abbastanza clamoroso il gol annullato al Milan. E si riparte tutto in un altro match perché vogliamo assolutamente ritornare a dettare la legge del Milan. E lo fa subito il Milan con il gol! Regalato dal Monza, incredibile! Non ci credo quasi. Il gol di Sia tutto troppo facile. Stavo per dire vogliamo subito tornare in vantaggio. Mi hanno ascoltato. 17 secondi. Tutto facilissimo. Erroraccio del Monza in difesa. Gol di Sia. Ha segnato diversi gol. È stato premiato a fine anno anche come la sorpresa dello scorso campionato Primavera 1. Diego Sia. Primo gol anche per lui. Pallone in mezzo per la giocata del Milan che passa ancora con un altro gol di Sia. Stavamo parlando proprio di lui. E siamo a tre. Doppietta per Diego Sia. La giocata di Stalma con il tacco anche pregevole. Non bisogna esagerare ma ogni tanto qualche colpo, qualche numero ci può stare. Se ne va, palla al piede. Victor, reazione personale travolgente di Victor che poi va al tiro. Parata incredibile di Mazza ma che azione di Victor. Palla ancora per lo scatto di Sia intanto. Lo chiude con enormi difficoltà Graziano. Sia gli ruba il pallone senza fallo. Sia al tocco e la palla che non entra per questione di centimetri. Ma Graziano è completamente in tilt. Qui ha lasciato spazio a Sia che poteva andare a segnare il gol della tripletta. Scade ora al quarto minuto e finisce qui la partita. Bel debutto del Milan che vince 3 a 1 sul campo del Monza. Da parte nostra è davvero tutto. Un abbraccio, un saluto e sempre forza vecchio cuore rossonero. Grazie.